Siamo in attesa di capire chi è il candidato e come abbiamo espresso in tutte le altre regioni Conviene avere un candidato unitario, quindi più che il candidato avere un programma e dei contenuti che uniscono E ripartire da lì per poi trovare un candidato che unisca tutte le forze della sinistra fondamentalmente Diciamo che la mia agenda non è comodissima ma soprattutto io conto molto meno di Conte L'agenda di Conte si complica ogni giorno di più e quindi stiamo aspettando una data Ma se sarà sarà un incontro molto informale Ogni regione come abbiamo capito in questo tour del sud e del nord ha delle peculiarità E quello che ci siamo detti è trovare la forza di un grande movimento di partecipazione All'interno di un dibattito elettorale che sappiamo sarà su toni molto accesi Si giocherà sul terremoto, si giocherà sulla sanità, si giocherà sul lavoro Quindi riprendere questi temi e riappropriarli in maniera appropriata per la politica